Uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti, il Centro Storico di Gela domenica scorsa ha fatto un salto indietro nei secoli con il Palio dell'Alemanna, esperimento perfettamente riuscito e da riproporre. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo archeologico Geloi, Cantiere Gela, Casa del Volontariato e da numerosi partners, tra cui Club Service Associazioni. L'amministrazione comunale ha sposato il progetto. Un centro storico, come dicevamo, trasformato in una corte medievale. Erano presenti giocolieri, arcieri, frassuoni di tamburi e trombe. L'obiettivo raggiunto era quello di valorizzare la conoscenza di una fase storica, forse fin troppo bistrattata, quella medievale, la quale risulta essere invece ricca di eventi importanti che vedono Gela diretta protagonista. L'iniziativa è stata un importante attrattore turistico. Erano in tanti, infatti coloro i quali sono giunti dalle città vicini ore. Una manifestazione rievocativa con costumi d'epoca, ricostruzioni storiche. C'erano anche degli spazi dove poter degustare i prodotti tipici del territorio. Giochi e scenografie hanno fatto da contorno in un'atmosfera suggestiva che ha visto protagonista il centro storico murato. Ed ancora dame e cavalieri che hanno sfilato con i loro abiti d'epoca lungo il corso Vittorio Emanuele. Figuranti e tantissimi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia. C'erano anche i tamburisti di Buccheri, la scuola di falconeria dell'Accademia Siciliana Federico II di Svevia e la compagnia degli arcieri di Enna. E c'era tanta gente. Il centro storico è diventato un vero e proprio palcoscenico con il coinvolgimento del pubblico. Il palio dell'Aleman ha aperto i festeggiamenti in onore della patrona. Complimenti agli organizzatori. Progetto da riproporre.